Secondo lei è giusto questo risultato di parità? Dal mio punto di vista no, perché analizzo solo la mia squadra, poi ho sicuramente anche la capacità di essere oggettivo ed obiettivo e non solo soggettivo nel dire che anche il Pescara ha avuto le sue possibilità. In un primo tempo che ci ha visti un po' timorosi, soprattutto nel primo quarto d'ora, ma dopo abbiamo ampiamente preso le misure con il Pescara che ha cambiato disposizione. Una squadra forte a mio parere. Nel complesso, secondo le azioni che adesso vado a rivedere, che ha caldo, ricordo, insomma, lo Iacono in primo tempo, Deli prima del gol aveva avuto un'occasione simile. La svolta c'è stata all'inizio del secondo tempo con due occasioni di Emello, il palo e poi la parata di Fiorillo. Fiorillo è stato molto bravo, il palo di Emello, l'altra occasione sempre di Pietro su un assist di Galano. Quindi diciamo che in questo sono un po' dispiaciuto, però il Pescara ha fatto la sua partita e Foggia anche, tenendo conto dei momenti, è un punto che mi soddisfa a metà. In virtù della sua oggettività, come diceva prima, le chiedo un giudizio sul rigore dato al Pescara per quello che ci può dire e sulle vostre proteste per il rigore di Mancuso, ma anche per l'episodio che c'è stato in area di rigore del Foggia al 93esimo, dove ci sono state anche le proteste del Pescara per quel contatto tra Leali e Brugman. Lei dalla panchina cosa ha visto? Allora, dalla panchina non c'è questa certezza. Vedendolo dalla panchina non mi sembrava assolutamente calcio di rigore. Poi ho sentito il ragazzo che spergiurava e giurava di... Parliamo dell'episodio di Mancuso. L'episodio di Mancuso, ovviamente, che diceva io ero fermo, ovviamente per come sono alto e per come sono fisicamente faccio fatica ad avere la stessa reazione che può avere Mancuso, che ha un fisico diverso, però la dinamica, rivedendolo, ti può far pensare anche che calcio di rigore si potesse dare. Quindi, tutto sommato, non sono, diciamo, adirato per questo. Ho forse qualche certezza in più, anche dalla panchina, senza averlo rivisto che su Brugman l'intervento di Leali, se non vado errato, non fosse assolutamente calcio di rigore. Un'ultima cosa, a proposito di episodi, il gol del Foggia, il vostro gol è scaturito da una punizione che il Pescara ha contestato quel contatto tra Campagnaro e Deli. Lei, forse lì, era in buona posizione per valutare? Sì, sono episodi che poi, come dire, l'arbitro che ha distanza dalla vicinata, quindi ti aspetti che abbia una lettura più precisa, però io non ricordo proprio in questo momento il secondo per dare un giudizio, la devo rivedere, di solito sono abituato, prima di dare giudizio, anche nei confronti dei miei calciatori, a rivedere la partita a mente serena, perché tante cose da quella distanza non riesco, però sicuramente ho visto che il gol del Pescara, l'occasione del gol di Mancuso, è scaturito per un errore di gestione a centro campo, dove sicuramente potevamo fare meglio. L'ultima cosa, Padalino, e poi la lasciamo, si aspettava il Pescara con questo nuovo modulo, con 4-3-1-2, con Marras trequartista, Mancuso e Munachello di punto. Sì, ne avevate parlato anche sui giornali, anche inizio settimana, durante la settimana si era paventata questa possibilità, l'abbiamo presa in considerazione fino ad un certo punto, perché tante volte ciò che viene scritto non risulta veritiero, quindi con il beneficio dell'inventario abbiamo pensato che ci potesse essere, ma non abbiamo creduto fino in fondo, avevamo preso delle precauzioni e quindi abbiamo cambiato in corso d'opera, tant'è che dopo il primo quarto d'ora, dove pensavamo che il Pescara si schierasse come sempre ha fatto, abbiamo modificato qualcosa e i risultati si sono visti.